Il telecronista che non ballisce mai, quando si parla bene di un giocatore, ecco che sbaglia un tiro lì. Rocchett che mette dentro il tiro corto, questo pancio, recupera Rocchett che è tutto solo, va a schiacciare. Questa gara giocata contro Trapani, come dicevo, ha allenato la Polignano, ancora scorto, rimanzo di Renzi. Trapani in centropiede, palla per Rocchett che realizza, vuole essere accorto il tiro, rimanzo di Renzi, Trapani spinge sull'acceleratore. Palla per Rocchett che tutto solo, che va ad evitare il figliarissi. Finoi per Rocchett che si butta dentro e va a realizzare, è spiozzi, non Trapani che continua a provarci, Finoi. Rocchett grande, scortata. Gira palla per l'inferno di Trapani con ottimo, ancora un servizio per... Ma in realtà possiamo dire che se così c'è passato, se c'è passato, se c'è la concessione utile, sono messo. Si cerca di correre un po'. E va a schiacciare, grande schiacciare. A Cade da Ricci, da dopo la G2, cerca l'assistro per Rocchett che realizza, funziona all'acceleratore. Egliamo sempre di prendere le... ...e di parlare bene di Trapani con i numeri da passare, cosa che non ci compete. No, che poi scattiva e sta trovato posto nella quintetta in squadra. Ottimo il no look, gli assist che per la percoltosa 15 a 0. Padrebbe anche, ha messo un po' solo attivamento. Spock a favasca! 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 Il migliere in campo è sicuramente via, adesione qua c'è una ruota di Ricci contro il tetto che va in contrapiede e va a realizzare Trocchi. Ottimo per un schiacciato per Renzi che però non trova il cane su Cipanzo, Trocchi che ha rinascato da Rossato. La situazione non proprio favorevole a Reducalabria per stasera. Assolutamente sì, anche perché spesso è stata una lacuna della formazione di casa, invece stasera soprattutto nel secondo quarto ci sta mettendo dentro Friuli. C'è la situazione che si mette la parte di Pianeto e la parte di Voschili ma la palla arriva da Rossi, a quasi del giubito Trapanesser. Fa forte dalla conclusione, poi ci sono in campo San Nacce e Gagli e contro il tetto Rucci. Fa la conclusione troppo per lei, tra l'altro facendo sempre a meno del suo elemento più rappresentativo mentre d'asse. C'è la prima attacca con Crocchetti che Matteo Lainford si fa vedere e riceve e con Lignano al dodicesimo di ritorno. L'ha sfiorato anche il successo, un po' c'è il panestrone, adesso è difficile tenere alto, come abbiamo detto, la concentrazione, con l'attenzione e l'attenzione, mentre Crocchetti è tutto solo, va a tutto, se non l'ha fatto lo scorso, l'ha fatto anche quest'anno, ma accettiamo i giuratori fortemente abitati. La formazione ospite cercherà di riducirla, non è proprio così problema. La formazione ospite cercherà di riducirla, non è un po' c'è l'attenzione, non è un po' c'è l'attenzione, di riducirla, non è un po' c'è l'attenzione, non è un po' c'è l'attenzione,